La storia di Ferrado Rivai è iniziata quasi una trentina d'anni fa perché mio padre e mia mamma dapprima facevano gli agricoltori, facevano coltivazione e producevano e poi ha iniziato a farsi i piantini per lui e continuare a coltivare e dopo pian pianino ha iniziato a esserci la richiesta di piantine anche da altri produttori qui della zona e ha deciso di incrementare il settore vivaistico. Da bambino, appena finito il compito a pomeriggio, mi piaceva uscire fuori e dare una mano ai miei genitori. Infatti ai tempi mio papà e mia mamma coltivavano parecchie insalate e fragole. Allora mi piaceva aiutare, dare una mano a raccogliere le fragole, anche se sinceramente erano più quelle che mangiavo che quelle che mettevo nei cestini, comunque andava bene lo stesso. Abbiamo 180 varietà di piantine diverse in catalogo, tipo una trentina di insalate, 25 varietà di pomodori, anche lì tutti i colori, rosa, arancioni, neri. Oramai c'è questa ricerca anche di novità, pomodorini piccoli, colorati, specialmente i ragazzi giovani vogliono provare varietà diverse. Nonostante questi numeri che sembrano che va tutto bene, purtroppo siamo molto vincolati dal metro, dal clima.